la giacca non l'avevi provato però no la giacca si è novità è un po' sto benissimo secondo me ma che stai di? come non ti piace? non lo so c'è qualcosa stai benissimo se mi topo Gisio in vacanza stai bene stai bene un po' di bel palino qua a me stai male metti il pantalone di prima ma pure questa camicia questa camicia qua è la preferita della tua cadena che cosa la metterebbe? il pantalone che è dove soluziono dei problemi non ti piace? allora mettiamo perchè l'altra volta c'era questa camicia il gilet stai girando? scusami qua lo stismo ma c'è un problema con la macchina come stai? tutto bene? sai ieri ho mangiato un ottimo minestrone questi discorsi così l'improbabilità di un discorso ieri ho preso un minestrone ottimo sono gelato? nooo si Susanna possiamo hai visto che bello questo soffitto? si sto cagando addosso tra il minestrone ciao 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 ciao